Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Madre del Buon Consiglio, per i giovani. Il suo sì nella Santa Casa ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed è la concepita opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto in frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto in frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto in frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amo. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Meditiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù al Giordano. Pate nostro, qui esi in cielo, santifici tu, nome in tuum, adveni ad regnum tuum, fiat volontà sua, sicute in cielo e in terra. Pane nostro, un quotidiano, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicute nostri dimittimus debitoribus nostris, e nel nostro istruca senza tentazione. Se te libero la nostra mano. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Ave Maria, grazia plena, Domino stecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in oa mortis nostri. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi, l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del Regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pregatori, prega per noi, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 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 Primettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci dalla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Petro people peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. L'ho dato sempre sia. Il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulceto, Espes Nostra Salve. A te clamamos, exsules in lineeve. A te suspiramos, gementes et frentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, ad vocata nostra, idos tuos misericordi sopuros, ad nos comerte. Et i resumen benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium possende. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata. Prega per noi, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Stella del Mattino, Prega per noi, Salute degli Infermi, Prega per noi, Rifugio dei Peccatori, Prega per noi, Conforto dei Migranti, Prega per noi, Consolatrice degli Afflitti, Prega per noi, Aiuto dei Cristiani, Prega per noi, Regina degli Angeli, Prega per noi, Regina dei Patriarchi, Prega per noi, Regina dei Profeti, Prega per noi, Regina degli Apostoli, Prega per noi, Regina dei Martiri, Prega per noi, Regina dei Confessori della Fede, Prega per noi, Regina Della Vergine, regina di tutti i Santi, regina del Rosario, regina della Famiglia, regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghera per la Pace di San Giovanni Paolo II. Santa Maria, prega per noi, oh Madre, per tutti noi. Prega per l'umanità che soffre miseria e ingiustizia, violenza e odio, terrore e guerre. Aiutaci a contemplare col Santo Rosario i misteri di colui che è la nostra pace, affinché ci sentiamo tutti coinvolti in un preciso impegno di servizio alla pace. Abbi uno sguardo di particolare attenzione alla terra in cui desti alla luce Gesù, terra che insieme avete amato e che ancora oggi è tanto provata. Prega per noi, Madre della speranza, donaci giorni di pace, via sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Amén. L'eterno riposo, dono al loro Signore e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amén. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Su tutti voi e sulle vostre persone care scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. O Maria Purissima, sei l'eletta del Signore, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza nel cuore. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Abbiamo trasmesso, dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Questa è la tua preghiera. Questa è una preghiera. Questa è la tua preghiera. Grazie a tutti.